ben trovati nuova settimana che comincia e comincia con un evento davvero molto importante quest'oggi a milano 15 ottobre 2018 si celebrano gli in house community awards il gruppo lc come voi sapete da anni oramai segue racconta quotidianamente il mondo in house attraverso la sua finestra in house community.it e chiaramente ogni due settimane sulle pagine di mag stasera come sempre noi riconosceremo e proclameremo i professionisti e i team che nel corso dell'ultimo anno si sono distinti in maniera particolare in questo settore un settore che è estremamente variegato e che è oggetto di una importantissima evoluzione perché così come quella dei legali di libero foro quella dei legali di impresa dei giuristi di impresa è una professione che sta vivendo una trasformazione importantissima in questi anni la loro figura all'interno delle aziende diventa sempre di più un asset competitivo di primaria importanza se guardate la storia di copertina di mag dal sito in house community.it di due settimane di due numeri fa troverete un approfondimento estremamente molto interessante che vi racconta il modo in cui le aziende i manager che le guidano gli imprenditori vedono gli in house all'oreo interno e ci sono dei dati interessantissimi perché nel corso dell'ultimo anno la maggior parte degli investimenti in house più del 20 per cento e addirittura il 30 per cento se consideriamo soltanto i primi nove mesi del 2018 hanno riguardato professionisti del settore giuridico per quale motivo perché una delle incognite fondamentali con le quali chi fa impresa oggi deve confrontarsi in italia così come all'estero è quella delle regole e dei rischi servono quindi professionisti che conoscano le regole i regolamenti che normano appunto il settore all'interno del quale un'azienda opera ma che conoscano anche i rischi tipici ai quali un certo tipo di business va incontro e siano in grado quindi di strutturare l'azienda in modo tale da consentirle di evitarli e affrontarli nel migliore dei modi ecco questi professionisti sono i protagonisti dell'evento di questa sera un evento fondamentale che vedrà la partecipazione di oltre 600 persone qui a milano super studio più noi vi invitiamo a seguirci perché vi daremo assoluta contezza di quello che accadrà in queste ore sui nostri siti e per il momento è tutto per cui non mi resta che augurarvi buona lettura dei nostri siti a presto